La mia quinta tappa sulla via Vandelli è iniziata da Sant'Anna Pelago, da dove sono risalita per raggiungere la cappella sulla Vandelli e continuare sul tracciato ufficiale il mio cammino. Benissimo camminare in questi paesaggi ammantati di neve, peccato che si fatichi parecchio. Si raggiunge così il passo del Lagadello che con i suoi 1623 metri è il punto più alto sulla via Vandelli e subito dopo si scende sulla strada asfaltata e qui abbiamo lasciato l'Emilia e siamo in Toscana. San Pellegrino in Alpe è il paese più alto dell'Appellino. L'antico ospitale oggi ospita un museo etnografico. Qui ormai non c'è più neve. Si percorrono sentieri serrati e strada asfaltata ammirando la bellezza di questo panorama verso la Garfaniana e le Alpi Apuane dove prosegue la via Vandelli. Scendendo si incontrano diverse case sparse e alcuni paesini. A Castelnuovo di Garfaniana finisce la tappa della mia via Vandelli che poi proseguirò nei prossimi mesi. con le ultime immagini di Castelnuovo di Garfaniana vi saluto e vi aspetto nei prossimi video. Grazie a tutti.